A te, grazie a tutti voi che siete presenti, gli organizzatori di Scassat e ovviamente a coloro che si sono collegati questa mattina. Io inizierei subito con il condividere lo schermo dove ho preparato proprio pochissime slide proprio per mantenermi in 15 minuti, 15-20 minuti perché, massimo 20, perché vorrei appunto dare la parola, che poi venga data la parola a chi ha letto il volume e ne vuole discutere con me e con tutti gli intervenuti. Quindi condivido subito lo schermo. Allora, ditemi solo se si vede. Va bene. Ecco, allora, va beh, la prima pagina è questa. La seconda è questa del libro, Ex Voto d'Italia, strategie di comportamento sociale per grazia ricevuta. Lo dico per coloro che magari non lo conoscono e non sanno che è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito della Franco Angeli. La decisione è stata, è un libro abbastanza corposo, sono più di 500 pagine e quindi abbiamo deciso di farlo uscire come open access. Quindi se non riuscite a copiare ovviamente questo link è sufficiente digitare Grimaldi, Ex Voto, Angeli, andate sulla pagina di Franco Angeli, fate un clic su download e avete il PDF di tutto. Quindi anche per gli studenti, tra l'altro è stato, diciamo così, confezionato in periodo di pandemia, no? Proprio, diciamo, ancora nella prima ondata e approfittando appunto del fatto che eravamo tutti reclusi in casa, sono riuscito a dare, diciamo così, una forma a questa ricerca che pensate è iniziata nel 76-77, il mio primo seminario che avevo fatto presso l'Università degli Studi di Torino. E poi ovviamente in modo intermittente ho sempre seguito questo argomento perché mi appassionava e perché era anche un bel modo per mettermi in gioco anche proprio come metodologo. Io sono un metodologo della ricerca e avere già nel 77-78 un oggetto di cultura materiale che era anche iconico e aveva messo a dura prova anche la mia persona anche proprio come metodologo perché dovevo tenere sotto controllo non solo dei dati ma anche delle immagini e non è stato facile ma è stato anche interessante e ha coinvolto per in tutti questi anni anche moltissimi studenti. Ma adesso iniziamo, andiamo per ordine. La prima domanda a cui risponde il libro è c'è un luogo degli ex voto? Sì, c'è un luogo degli ex voto e qui c'è il santuario della Madonna dell'Arco che io avevo visitato nel 2009 e che è un po' l'ombelico d'Italia e forse anche del mondo per quanto riguarda le tavolette votive dipinte. Pensate che Paolo Toschi, l'etnografo che per primo forse ha fatto una ricerca CNR molto importante, ha lasciato tracce importanti in questo santuario perché aveva fatto una lunga schedatura e quindi si sono viste, ho provato anche l'emozione di trovare questi elementi. Poi l'ex voto ha degli elementi ricorrenti per cui noi sociologi che siamo abituati a fare dei questionari, andare a prendere, a selezionare le variabili eccetera, ha degli elementi ricorrenti? Sì, gli elementi ricorrenti sono quelli che voi vedete. C'è sempre un santo votivo, stiamo parlando degli ex voto dipinti, non parliamo dei cuori d'argento, tutta quell'altra casistica di ex voto che è vastissima ma che evidentemente abbiamo tenuto fuori dalla nostra ricerca. Dicevo c'è sempre un santo votivo, c'è sempre un miracolato, c'è sempre un richiedente la grazia, c'è sempre un testo, in questo caso semplicemente un nome, Sandri Tommaso, poi la formula che è rituale per grazia ricevuta e di solito una data. Non è detto che ci sia sempre, però di solito c'è una data che serve anche a dare esattamente il momento del contesto. A volte c'è anche la firma del pittore. Ecco, questi sono un po' gli elementi che ricorrono, diciamo così, sempre nelle tavolette votive dipinte. Ci sono arrivato anche tramite la morfologia della fiaba di prop, perché vedete, il bello dell'ex voto è che è un racconto in un frame, cioè un racconto in un'immagine e quindi quando ho incontrato la morfologia della fiaba ho visto che in fin dei conti si possono applicare le funzioni di prop anche a questo racconto, cose che ho fatto nel libro, ma che adesso non vi annoierò presentando ulteriori slide, le potrete vedere. Ma soprattutto ci tenevo a dire che chi mi ha fatto fare questo passo è stato Gianluigi Bravo. Gianluigi Bravo, sociologo urbano-rurale, poi diventato antropologo e ahimè mancato da pochi giorni, veramente poche settimane, qui a Dasti, Don Luigi Berzano lo sa molto bene, è stato diciamo così colui che mi ha, come dire, avviato a questa ricerca o perlomeno mi ha sostenuto molto e appunto, tra l'altro pensate, questo è un aneddoto, mi ha fatto vedere proprio il libro originale in russo che poi lui ha tradotto, perché lui era stato due anni giovanotto alla Lomonosov di Mosca e si era portato poi a casa questo libro sulla morfologia della fiaba, me l'ha fatto vedere, tra l'altro un libro molto incasinato, oserei dire, dal punto di vista redazionale, mi aveva detto che gli aveva richiesto parecchia fatica a metterlo in quadro, per cui poi Einaudi non a caso gli ha scritto a cura di Gianluigi Bravo, non è stato solo un semplice traduttore, cioè diciamo che gli ha messo le mani sopra. E poi vabbè con Bravo ho avuto l'opportunità di lavorare con Gian Mario Cirese in un 40%, un print di tanti anni fa e poi ho potuto anche collaborare con Titta, con Pietro Clemente, che sono antropologi, quindi ho avuto anche la possibilità di lavorare con colleghi di quest'altra disciplina. Ecco, qui c'è un'altra domanda. Qualcuno dice, ah, gli ex uotto hanno questo naif. Io mi ricordo che ho lavorato con Nanni Sciolla, storico dell'arte, che tra l'altro ho scritto anche un capitolo in questo libro e mi ha detto, Renato, non dite mai che sono un naif. Questi arrivano dalla cultura alta e guardate, io ho trovato un numero altissimo di ex uotto da Raffaello Velasquez e ne ho riportato uno per tutti, guardate, ex uotto dove Santa Elisabetta di Ungheria, che è qui in alto a destra, intercede per un bambino caduto nel pozzo, particolare del regista inferiore della predella dipinto da Piero della Francesca, 1468 che si trova alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. Quindi vedete che è vero che dopo, adesso noi vediamo nei santuari gli ex uotto che sono per lo più, diciamo così, commissionati da gente semplice, diciamo così, da una classe sociale, diciamo così, non alta, però arrivano da una cultura alta, come mi ha fatto notare questo collega. Un altro concetto, ma molti mi chiedono, ma gli ex uotto oggi si fanno ancora? Accipicchia se si fanno ancora. Proprio il rettore della Madonna dell'Arco che ho visto non più di pochi mesi fa mi ha detto, sì, ne stanno arrivando tanti, forse più di prima, e ho voluto mettere questo che ho trovato al santuario di Sant'Anna di Vinadio, qui nella montagna cunese, quindi qui in Piemonte. Pensate, Covid-19, qui siamo nella prima ondata, 12 marzo, 21 aprile 2020. Ma faccio sempre notare, soprattutto agli studenti, anche quello che è scritto nell'iscrizione, riporta l'iscrizione. Mi sentivo forte e potente che nulla mi scalfisse, ma il virus a prevalso ed è stata una grande lezione di umiltà. Grazie Sant'Anna e per grazia ricevo. Mi sentivo forte e potente che nulla mi scalfisse. Era un po' la sensazione che avevamo tutti noi prima, credo, prima che arrivasse questo maledetto virus, no? Cioè non davamo più importanza al fatto che si poteva andare da una parte all'altra d'Italia, se non del mondo, e invece poi ci siamo trovati che un qualcosa di microscopico ci ha chiusi in casa e dopo due anni non ne siamo ancora usciti. Comunque, era per dire che ex foto se ne fanno ancora. E arriviamo a Luciano Gallino, che qui è in una fotografia che avevo scattato nel 78 quando ha festeggiato il dizionario di sociologia del Lutet. Ecco, Gallino è autore del modello di attore sociale, quello che lui chiamava ego, che è alla base dell'impianto teorico del nostro lavoro. Come ha avuto occasione di dire prima Domenico, questa è una ricerca che, diciamo così, ha un modello esplicito. Ecco, Gallino ci teneva molto a dire questo. Quando noi facciamo una ricerca senza un modello esplicito, vuol dire che abbiamo dei modelli impliciti che però non riusciamo a, come dire, a concretizzare, a rendere trasparenti. Invece qui abbiamo un modello che ci guida, abbiamo un modello che è il modello ego di Luciano Gallino, che ha costruito proprio nei primi anni Ottanta, tra l'altro anche con tecniche di intelligenza artificiale, pensate, 1982-83, io allora ero all'inizio della mia carriera universitaria e ho lavorato parecchio anche a questo modello di attore sociale, soprattutto sulla parte, sulla versione computazionale, quella che riguardava l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In tutti questi anni ho raccolto con calma, eccetera, però sono arrivato a schedare diecimila casi, diecimila tavolette votive, in particolare nel Piemonte, ma anche in tutta l'Italia. Guardate, molto semplicemente vi dico, che cosa riguarda, qual era l'oggetto degli ex voto tra il 1500 e il 1700? Ecco, guardate, se seguite questa linea tratteggiata, qui avete gli ex voto che parlano di medicina e chirurgia, cioè di malattia. Guardate, sono partiti dal 40% di quel gruppo per arrivare adesso quasi al 10%, quasi a sparire. Mentre invece l'infortunistica, che sta per infortuni quando si viaggia sui mezzi di locomozione, sono tutte accezioni che vi do che ho ripreso da Paolo Toschi, da quell'etnologo di cui vi parlavo prima. Ecco, se parliamo invece di infortunistica con mezzi di locomozione o sul lavoro, guardate, arriviamo ai giorni nostri che arriviamo quasi all'80%, per cui oggi sul 5 ex voto che vedete in un santuario fatti negli ultimi decenni, 4 su 5 riguardano l'infortunistica. Tra l'altro ormai non ci sono più i pittori, magari trovate delle fotografie, la fotografia dell'incidente con l'auto, l'incidente sul lavoro. Vi dico solamente che questi due triangoli, questi due cuspidi qui, sono la prima e la seconda guerra mondiale. Prima e seconda guerra mondiale hanno lasciato un segno importantissimo nell'immaginario contadino e non solo contadino, per cui gli ex voto della prima e seconda guerra mondiale li trovate. E tra l'altro a tutte le latitudini. Mi ha fatto molto effetto, quando sono andato a Catania, al santuario di Trecastagni, il fatto di vedere quanti ex voto ci sono di siciliani nella prima guerra mondiale, quando si è cominciato a costruire l'Italia. Quindi pensate a quanti siciliani, ma per dire quante persone del sud, hanno dovuto chiedere la grazia per sopravvivere sul Rombon, sul Carso, nel Veneto, eccetera. Ecco, adesso vi faccio vedere proprio brevemente qual è l'occhio, diciamo così, del modello di Gallino che noi abbiamo prestato sulle tavolette votive dipinte. Vedete, c'è un richiedente la grazia che si chiede, allora cara, in questo caso Madonna, ti chiedo l'intervento per il mio corpo, no? Per il mio sistema di orientamento, no? Questi sono i quattro referenti del modello di Gallino. Per i miei valori, eccetera, no? Per un mio fine biologico, cioè uno che condivide con me, diciamo così, i geni, no? Per una fine biologico, in questo esempio qui. Ovvero, ad esempio, potrebbe essere il marito, un partner, qualcuno che condivide, diciamo così, tratti culturali, ma che potrebbe essere anche un commilitone, un altro sociologo, no? Quindi una fine culturale, il quale, miracolato, di nuovo teme per il proprio corpo e non per il sistema di orientamento, non per gli affini biologici, non per gli affini culturali, a cui sono applicati, ecco, questo è un altro strumento importante di ego del modello di Gallino, per cui ai referenti applica una terna di scopi ultimi. Allora, qual è lo scopo ultimo di questa persona, di questo attore miracolare? è la sopravvivenza del proprio corpo. Quindi questo miracolato teme per la sopravvivenza del proprio corpo. Se invece fosse, ad esempio, un artigiano che lavorando parte una scheggia e gli va a colpire l'occhio e quindi diventa cieco da un occhio, tanto per dire, o rischia di diventare cieco da un occhio, ecco, lo scopo ultimo sarebbe la persistenza del proprio corpo, perché quella persona lì non si vedrebbe più la stessa di prima, di prima di quell'evento di cui ho parlato. Immaginate la ritirata di Russia, di Russia, arrivo a casa e mi devono amputare una mano. Sono un contadino, evidentemente ho avuto problemi alla persistenza del mio corpo. Replicazione invece è il caso, ad esempio, della puerpera, che teme per il proprio parto, quindi per la replicazione del proprio corpo. Ecco, tenete conto che questa terna di scopi ultimi può essere applicata a tutti gli altri tre referenti. I referenti sono quattro. Ecco, questo è proprio in soldoni quello che noi abbiamo fatto per osservare le tavolette votive dipinte. E qui abbiamo parlato della strategia di identificazione altruistica, cioè il richiedente che chiede l'intercessione per un alter diverso da sé. Allora andiamo invece nell'altro caso, nell'altro caso dove abbiamo la strategia di individuazione egoistica, l'altra era altruistica, questa è egoistica, dove abbiamo un richiedente che coincide con il miracolato. Guardate, qui c'è il ciabattino di questo paese che cade da questo muro che è molto alto, tra l'altro cade e quindi teme per la sopravvivenza del proprio corpo. Però in questo caso, come ho appena detto, la strategia di individuazione, cioè egoistica, perché lui chiede per sé. Quindi sono due le strategie che vengono fuori al netto di questa analisi. Ecco, per cui arrivo alla conclusione di questa breve presentazione dicendo quali sono i risultati principali. Guardate, abbiamo detto che ci sono due strategie. Se voi entrate in un santuario trovate due strategie. Quella altruistica, strategia di identificazione, dove il richiedente la grazia chiede per un altro diverso da sé. E l'altro invece dove c'è strategia di individuazione egoistica, dove il miracolato ha chiesto la grazia per sé stesso. Allora, quali sono i risultati? Allora, questo tipo di ex voto è pari al 31% dei casi. Quindi sui 10.000 che ho schedato, 3.000 rientrano in questa, più di 3.000, quasi un terzo rientrano in questa categoria. E quindi due terze in questa categoria qui. E come è costruito? Qual è la morfologia di questo ex voto? Il richiedente è prevalentemente di genere femminile. Qui tra percentuali ci sono le classi modali, mettiamo quelli, 70%. Quindi quando abbiamo un ex voto di tipo altruistico, chi è il richiedente altruistico? Una donna, che chiede per un uomo. Questa è la casistica che è venuta fuori. Quindi il richiedente di genere femminile dentro il sistema famiglia, sistema sociale. Di nuovo Gallino era molto attento al fatto di, bisogna collocare sempre le persone in un sistema sociale. Nel ruolo di casalinga, vedete, rappresentata come casalinga, moglie, madre, teme per un affine biologico, in questo caso qua. Immaginate che questo sia un figlio, ad esempio. Quindi un affine biologico. Si trova nel territorio di origine, cioè nella sua cascina, nel suo territorio. Chi è invece che riceve la grazia è prevalentemente un maschio, collocato ancora nel sistema famiglia, lo vediamo, nel ruolo di malato, che teme per il proprio corpo e in particolare per lo scopo ultimo sopravvivenza. Quindi prima, mentre parlavate, mi è venuto in mente un titolo che potrebbe essere di una tesi o anche di un articolo. Corpi che sopravvivono, per grazia ricevuta. Se dovessi fare un altro libro lo chiamerei così, perché è, come dire, un florilegio di corpi che vogliono sopravvivere. Gli ex vuoto sono un insieme di corpi che vogliono sopravvivere. Andiamo brevemente sull'altra categoria di ex vuoto, che sono coloro che, diciamo, strategia egoistica. Il richiedente chiede la grazia per se stesso, diciamo i due terzi. È prevalentemente di genere maschile, quindi mentre prima avevamo una donna che era altruista verso un maschio, qui abbiamo un maschio che è egoista e che chiede per se stesso. Sta nel sistema territorio, per lo più, vedete qui vicino alla sua cascina, mentre lavora, ma anche nel sistema lavoro, molte volte anche nel ruolo di militare. Anche qui teme per il proprio corpo e in particolare per la propria sopravvivenza. Ecco, diciamo così che questi sono i risultati, diciamo così, più eclatanti che sono venuti fuori da questa ricerca di cui adesso andiamo a discutere. Va bene. Grazie Domenico, grazie Andrea. Grazie, grazie Renato, grazie. Ecco, io ci sei Fabio? Conduci tu? No, si vede che è ancora preso dai suoi guai. Allora, vabbè, prendo io, assumo io questa responsabilità. Io direi che adesso, visto soprattutto il metodo di indagine, questo è di particolare interesse, viste le difficoltà, come dicevo, di indagini sulla cultura materiale e sugli elementi testuali, siano essi conografici ma anche scritti. A questo punto passiamo alla discussione che vedrà impegnati i seguenti professori, Luigi Bersano, Emanuele Ferreri, Roberto Scalone, Andrea Lombardi Nillo e darei subito la parola a Luigi Bersano. Grazie di questo invito, grazie a chi ha organizzato questo seminario, in primis grazie a Renato Grimaldi per questa poderosa ricerca e pubblicazione. Io mi scuso, in questa postazione non riesco a fare un primo piano e quindi apparentemente sono lontano ma sono molto coinvolto con tutti quanti voi. Questo volume effettivamente è un volume poderoso e però dietro a questo volume ci sono 45 anni di ricerca sugli ex voto, di catalogazione, di schedatura, anche di arricchimento teorico sul come interpretarli, 45 anni anche di socializzazione dei risultati e di pubblicazioni. Per cui si diceva prima, potrebbe essere la conclusione che ormai la ricerca sugli ex voto in Italia dopo Grimaldi è finita, ma non è così perché questo seminario appunto vuole essere anche un tentativo di immaginare quali campi nuovi si possono aprire e quali teorie interpretative possono applicarsi. E quindi io dirò in un primo punto i due pregi, le due utilità che questo volume poderoso di Grimaldi ha e in un secondo punto anticipare un'ipotesi su quali campi potrebbero aprirsi. Ovviamente il pregio e il valore di questa ricerca, come diceva prima Renato Grimaldi, sta nella sterminata documentazione che questa ricerca ha fatto. La struttura di ogni ex voto, diceva prima ancora Renato, sta in alto in ogni ex voto la rappresentazione del mondo celeste. Quindi in alto troneggiano le vergini, i grandi santi taumaturghi, attorniati dai cieli, dai lampi, dalle nubi. Insomma, la parte superiore di ogni ex voto è la sociologia del mondo celeste. La parte inferiore di ogni ex voto è la sociologia della vita quotidiana, cioè del mondo umano. E qui ci sono dei dati di una utilità incredibile che questo volume documenta, relativa alla vita quotidiana, al mondo perduto, dei lavori, delle abitazioni, delle strutture familiari, anche dei rischi del lavoro, dalle paure del mondo contadino, fino agli ultimi casi, appunto come si diceva, del Covid-19. Quindi gli ex voto rappresentano un mondo scomparso e prevalentemente il mondo scomparso della società tradizionale. E l'utilità di tutto questo lo dice ancora Renato Grimardi, un poche righe che voglio leggere. La lunga sequenza di eventi narrati negli ex voto costituisse una sorta di DNA della nostra nazione. indispensabile per dare forma al futuro del Paese. Anche per questo motivo gli ex voto dipinti devono essere rilevati, schedati, conservati, protetti, valorizzati, studiati e portati all'attenzione del grande pubblico. E questo direi è il dato che il pregio e l'utilità di questa ricerca ha. Ma accanto a questo direi che ce n'è un altro che poi è prevalente in questo ultimo volume di Grimaldi. E cioè il modello teorico che viene applicato. Quindi questa chiarificazione metodologica tra metodi quantitativi e metodi qualitativi. Abbiamo sentito prima evocato il modello ego di attore sociale di Luciano Gallino. Ecco, noi ai nostri studenti diremmo che ormai all'interno dell'analisi degli ex voto si sta applicando si sta applicando la teoria dell'attore sociale. Insomma, noi ai studenti diremmo l'homo economicus è religioso negli ex voto e l'attore sociale e le motivazioni che tutto questo comporta. E allora a questo punto direi quali sono due eventuali campi che si aprono adesso soprattutto in riferimento a queste teorie della rational choice dell'attore sociale. E direi il primo campo è quello delle trasformazioni degli ex voto nelle società secolari. Ecco, nelle società secolari intanto dove si pongono gli ex voto? Dove vengono collocati? Chiaramente nei santuari ancora nelle chiese nei piloni campestri nei luoghi dove c'è apparsa un'apparizione celeste. E però oggi possiamo immaginare che gli ex voto vengono posti in altri luoghi? cioè nei mass media nelle pagine Facebook nei forum insomma questo è un campo che potrebbe essere da tenere sotto controllo per capire dove vengono collocati gli ex voto. Non so se questo ha pertinenza ma lo scampato pericolo lungo le strade con un piccolo segno analogo invece a quello molto più prevalente degli incidenti mortali cioè lungo le strade ormai noi vediamo vediamo piccole edicole che vengono fatte spesse volte vengono curate là dove c'è stato un incidente mortale però qualcuno mi diceva di aver visto qualche segno lungo le strade dove c'è stato un incidente rischiosissimo senza la morte di nessuno e quindi questo segno si direbbe di un ex voto di un incidente scampato addirittura lungo le strade ma la direi la seconda ipotesi che mi permetto di avanzare e che è già presente nel volume in questo volume di Grimaldi è la direi la componente oltre che devozionale la componente di socializzazione dell'ex voto negli ex voto certamente la componente devozionale rappresenta esattamente la costruzione dell'ex voto e la collocazione all'interno di un santuario all'interno di un luogo religioso se però noi analizziamo gli ex voto come fatto totale cioè gli ex voto nella nella cessione di Marcel Mors noi troviamo che ogni ex voto oltre che una componente devozionale ha anche una componente comunicativa cioè il perché l'attore sociale socializza pubblicizza appunto l'ex voto ora in questo senso è assolutamente utile e geniale l'introduzione appunto di quanto diceva Grimaldi dell'attore sociale cioè si tratta di di un modello interpretativo rivolto alla discussione critica della pratica dell'ex voto sia nella sua natura devozionale sia nei suoi rapporti con la comunità a cui appartiene l'offerente Gallino direbbe ma lo dice anche Renato Grimaldi che oggi risulta determinante non soltanto il ricevimento della grazia quanto la socializzazione di questa la comunità ma quale comunità quando scompaiono le comunità territoriali però solo in questa prospettiva a mio avviso si coglie l'eventuale crisi dell'ex voto nelle società laiche secolari nelle quali l'ex voto continua ad essere espressione di una qualche religiosità individuale ma la comunità di riferimento destinataria del messaggio dell'ex voto non è più quella tradizionale che era in prevalenza locale vale a dire la parrocchia i devoti di un santuario di un monastero oggi al contrario la struttura della società non è più quella della comunità territoriale locale ma quelle delle comunità di riferimento quali quelle per esempio dei social o delle pagine facebook e si può quindi parlare per analogia alle società post rituali anche di una società post ex voto tradizionale ora qui si coglie la crisi eventuale dell'ex voto nelle società laiche secolari l'ex voto continua ad essere espressione di religiosità individuale ma la comunità di riferimento destinataria del relativo messaggio non è più quella tradizionale di chi frequentava un santuario oppure un luogo religioso l'analisi di queste trasformazioni che il volume di Grimaldi anticipa potrebbe essere eventuale un'eventuale ipotesi per la futura ricerca di Renato Grimaldi della sua equipe e di tutti quanti noi e per questo quindi buon lavoro a tutti quanti grazie grazie molto molto interessante questo riferimento alla comunità locale al cambiamento molto interessante perché in effetti l'ex voto almeno per come l'ho interpretato io quando ne ho visto qualcuno è una testimonianza che rinforza in fin dei conti il tipo devozionale della comunità così almeno l'ho sempre interpretato se viene meno la comunità o si sfalda dice qualcosa però per quel che posso capire io non ho mai visto ex voto sui media e sui social quindi c'è qualcosa che cambia c'è qualcosa di diverso ci vuole forse un'intensità diversa una matericità probabilmente per cui mi hanno preso un'altra strada vabbè non divargo a questo punto sentiamo la voce di uno rappresentante dell'immaginario ecco e do la parola alla professoressa Ferrelli buongiorno mi sentite? perfetto ecco allora in primo luogo ringrazio per questa occasione di confronto su questo lavoro monumentale documento monumentale di Renato Grimaldi che si è incrociato fortemente con le mie riflessioni che stavo facendo proprio sulla cultura materiale l'oggetto culturale l'enunciato performativo che è strutturalmente dentro l'oggetto culturale che ha questa forma che ci consente di identificarlo ma che ci consente di identificarlo nel processo strutturale che sta dentro e fuori la possibilità di esistere di questi oggetti culturali così complessi e che ci parlano con tanta intensità e continuità qui parliamo di cinque secoli di storia ecco questo lavoro veramente si è intrecciato con delle motivazioni dublici motivazioni personali e professionali perché tra l'altro io ho potuto ripercorrere tanti momenti fondamentali della mia formazione di base io mi sono laureata in antropologia nel 92 quindi ho studiato con Cirese ho studiato con il professor Clemente e ho fatto il secondo corso di perfezionamento in antropologia dei patrimoni culturali ho conosciuto Lombardi Satriani Buttitta ho letto i libri di Bravo insomma ho ritrovato continuità nel mio percorso umano e professionale ma erano un po' di un anno un anno che un'inquietudine personale che mi aveva dato vedere dei gioielli gioielli indossati a Sanremo da una cantante italiana molto brava in cui ricorrevano i cuori d'argento eccetera questa inquietudine che mi ha dato vedere la forma dell'oggetto sacro in una situazione straordinariamente profana ma ha fatto sì che io mi scatenassi in internet a cercare questi oggetti e a trovare in internet appunto dove ritornava l'ex vuoto ovviamente questa forma riproposta dentro questi gioielli ma anche poi le aste online delle tavolette votive la documentazione sui furti la ricettazione di questi oggetti oggi una tavoletta votiva del secolo scorso o di fine ottocento parte da 499 euro in queste aste ebay quindi ho visto tutta una una diciamo contingenza da capire su questa forma e su questa struttura dell'ex vuoto che mi ha portato a intrecciare questa mia necessità personale e professionale rileggendo dei testi il primo è Remembering the Present di Ioannes Fabian che ha tenuto per tanti anni professore merito di antropologia culturale e sociologia non occidentale ad Amsterdam e una una ricerca questa di Ioannes Fabian in Zambia lunga più di vent'anni in cui lui andò per la prima volta a contattare un pittore di tradizione locale che aveva una collezione di più di cento tavole dipinte che che però stavano destando una curiosità oltre diciamo un mercato locale di arte tradizionale perché c'era una vocazione alla storia alla costruzione della storia quindi il lavoro ventennale di Ioannes Fabian è stata a restituire a questo artista intellettuale locale la sua figura di storico per la popolazione del del Katanga in questa area sud orientale del Congo Zambia Zaire insomma una e questo suo lavoro quindi di pittore narra cantastorie locale è diventata la creazione di una collezione di opere che potessero archiviare la storia di un paese ma soprattutto far superare alla popolazione un trauma il trauma della colonizzazione il trauma del cambiamento il trauma quindi non solo la perdita di un'autodeterminazione politica ma di una di un'autodeterminazione nella coscienza nel sé e quindi nella propria centratura culturale e ideologica ecco quindi lì la sociologia non occidentale che va a colpire questo cuore importantissimo per la sociologia dell'immaginario che l'idea di società l'idea di popolazione dentro e dentro appunto la struttura che informa la forma dell'oggetto culturale è straordinario perché poi anche qui in termini teorici metodologici le parole dell'autore sono chiarissime in questi suoi dialoghi con l'artista e con questa audience pubblica che riceve cataloga e quindi rirende pubblica la narrazione della storia e la possibilità di riappropriazione e ripatrimonializzazione della propria storia dal proprio punto di vista con la propria comunicazione culturale e il proprio posizionamento nel mondo quindi perché questo che trovo anche nei cinque secoli di storia dell'ex evodo che non finiscono che non finiscono perché ecco appunto non si tratta solo di chiarire che non è possibile parlare soltanto di una cultura alta che poi si è popolarizzata che poi si è marginalizzata cos'è questo marginalizzarsi non è solo un'immarginazione di località e di cultura popolare di devozione popolare qui c'è piuttosto una marginalità forse ma non è detto c'è un'eterogeneità di possibilità sociologica e antropologica rispetto a questa strategia di comportamento che è una disposizione antropologica a non soccondere all'evento devastante appunto che mette a rischio immediatamente in un frangente in una contingenza negativa la sopravvivenza fisica quindi la consistenza vitale del soggetto e di tutto quello che è il soggetto nella sua rete vitale e quindi la replicazione dell'esistenza dell'essere connotata in termini culturali sociologici ed antropologici questo è quello che è molto importante poi i luoghi i luoghi di tutto questo allora la forma la sua struttura questo enunciato performativo va a essere pubblico anche se è una devozione così privata così personale deve camminare deve comunicare deve essere messa dentro un posto ora è chiaro che oggi noi come la sottoscritta rimaniamo inquietati da vedere in internet certe cose però ecco la comunicazione oggi finisce anche lì e bisogna studiare con la sociologia e con l'antropologia anche questo e questo mi ha portato al secondo incrocio perché stavo approfondendo l'epoca della contingenza di Carlo Mungardini e che mi ha dato la possibilità di farmi questa domanda ma allora l'oggetto ex voto nell'epoca della contingenza andare a tracciare come mai la definizione che dà sintetica adesso per non prendermi troppo tempo una cultura del presente in cui tutto è interessante e niente è significativo cioè anche questo tutto questo oggetto culturale così complesso questi oggetti culturali così complessi questi fenomeni culturali così complessi sono estremamente interessanti e possono diventare in nulla significativi se non per una riduzione che viene fatta al minimo di questa protezione di questa disposizione a una salvaguardia del corpo e del sé oppure con un'operazione che è diciamo di trasformazione truffaldina noi diremo ma in realtà è una trasposizione cioè cercare il valore economico di tutto questo anche in quella conservazione della località della comunità della società dell'istituzione cioè dargli un valore economico che sia ammissibile o non ammissibile si mette nel corso di quest'altra enorme struttura di significato della contemporaneità della modernità quindi a trovarmi di fronte titoli di interviste promozionali su questi oggetti sia quelli robati quelli ricostruiti da orafi non indifferenti qui parliamo anche di abilità artistiche artigianali notevoli per cui si parlava i titoli ex voto da feticcio religioso a gioiello radical chic da oggetto magico ad amuleto underground ecco in queste comunicazioni ho trovato appunto questa riduzione al minimo della forza che si viene ad impretare la protezione del corpo che si viene ad impretare e che viene applicata ad un corpo che si qualifica esteticamente portando questo oggetto su di sé ci sono addirittura dei gioielli che riproducono questi quadretti non solo il cuore d'argento che diventa un modulo di gioielleria ma sono le spiegazioni con cui vengono venduti questi oggetti che sono estremamente significativi ecco non so se c'ho altro tempo però ecco qui c'è tutto un posto rituale c'è tutto un posto tradizionale che va che può essere può essere attraversato per capire una sociologia ecco ecco qui come non c'è cultura alta cultura bassa forse qui non c'è più occidente non occidente qui c'è una contemporaneità quindi una densità culturale che non può essere omogenea e quindi non c'è una totalità una totalità totalitarismo di questo problema se non in questo ancora qui la soggettività in cui c'è l'attore sociale e questa doppia figura dell'identificazione che poi è una struttura che è poi la struttura profonda l'identificazione altruistica e l'individualizzazione egoistica ecco sta marciando su tante altre possibilità ma non ce n'è una che esclude l'altra è la sinergia di tutto questo che a mio avviso continua a essere interessante per chi vuole studiare questo ecco e poi quel nucleo profondo profondo per chi studia l'immaginario che è questo noi come una una coscienza civile e quindi una morale religiose anche qui non c'è una esclusività una dicotomia tra le due cose ma c'è una profondità dell'immagine e del sentire della società del sé del collettivo che poi non ha bisogno di tante altre declinazioni ecco ed è fondamentale fondante ed è profondissimo come immaginario ecco io mi fermo qui perché vorrei aver consumato più tempo del dovuto e ringrazio ancora tantissimo perché mi è stato fatto un voto veramente prezioso chiamarmi a condividere con voi questa esperienza che ho fatto grazie ancora grazie grazie a te Emanuela questo questa cosa dell'ex voto che si trasformano da simbolo a segno o meglio prendono altre simbologie vengono sterilizzate della loro simbologia era una cosa parallela che c'era da parecchio segnatamente nell'area radical chic la ricordo anch'io già negli anni settanta con una sorta di presa di distanza dall'aspetto devozionale e così quando la moda arriva con i suoi tentacoli ovunque arriva in qualche modo appunto trasforma da simbolo a segno sterilizza sostanzialmente gli oggetti per usarli come segno anche agli ex voto non credevo che fossero arrivati anche agli ex voto o temporo moris potremmo allora darei adesso la parola al professor Roberto Scalon una voce dal lato sociologia della religione suppongo grazie sì molte grazie ringrazio anch'io per essere stato coinvolto nella presentazione di questo di questo studio vorrei fare alcune considerazioni la prima è un'impressione generale sul lavoro e la seconda in secondo luogo diciamo alcune dare alcune suggestioni numerose suggestioni che il libro mi ha mi ha suggerito mi ha evocato in me sulla base naturalmente dei miei interessi di studio di ricerca non farò in tempo dire tutto però l'impressione generale che il lavoro ha suscitato è quello di trovarmi al cospetto di uno studio una ricerca che come dire da manuale ecco cioè mi è fatto ritornare in mente il manuale di John Mage lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia curato da Alberto Izzo su cui tutti noi abbiamo studiato ecco secondo me questa è una ricerca che potrebbe stare in un manuale di questo tipo mi ricorda le grandi ricerche sociologiche della fine dell'ottocento inizio del novecento dal suicidio di Durkheim al contadino polacco in Europa in America di Thomas Daniecki al Middletown in transition Middletown in transition per la vastità del lavoro il rigore teorico e metodologico e quindi il rigore metodologico vuol dire cioè basato su un potente apparato teorico una ricerca empirica poderosa basata su un potente apparato teorico da cui discendono chiare ipotesi di ricerca da sottoporre appunto verifiche empiriche cioè è un'indagine rigorosissima lo stesso Grimaldi a pagina 99 precisa bene questa cosa che non è affatto scontata anche se potrebbe potremmo pensare che fosse scontata e cioè lui precisa come metodologi sappiamo bene che le teorie non si controllano ma sono invece le ipotesi derivate da tali teorie che vengono sottoposte all'esame dei fatti e qui noi troviamo la teoria dell'attore sociale il modello dell'attore sociale viene spiegato bene a cosa serve il modello che differenzia rispetto alla teoria le ipotesi della massimizzazione dell'idealità complessiva la messa a fuoco delle due strategie di identificazione strategie di identificazione o altruistica e di individuazione o egoistica prima richiamate da Grimaldi e in sintesi pagina 269 leggo solo questo passaggio dice ogni istanza di ego simula un particolare soggetto che in qualunque situazione tende a ottimizzare mediante le sue decisioni il proprio successo riproduttivo bioculturale ovvero in generale la propria sopravvivenza al tempo stesso fisica e simbolica e poi si fa riferimento attraverso una citazione alla meta regola esplorata da Luciano Gallino e Luciano Gallino è chiaramente come è stato detto il punto di riferimento di questa ricerca che ci restituisce appunto il rigore teorico metodologico è collegato alla ricerca empirica per cui non è possibile in ambito sociologico una ricerca empirica rigorosa senza un poderoso apparato teorico metodologico ora il fatto che diciamo così questa ricerca sia avvenuta dentro la cornice avendo come punto di riferimento il professor Gallino che è l'autore appunto di dizionario di sociologia su cui si sono formate generazioni di sociologi italiani e credo non solo italiani che ci dà la cifra dello spessore di questo lavoro su cui non posso più soffermarmi su questo aspetto ma andrebbe messo in evidenza cioè è una ricerca da manuale classico proprio secondo me l'altro vengo alle suggestioni una prima suggestione le devo chiamare suggestione perché naturalmente in questa sede col tempo a disposizione non si possono approfondire però la prima la prima suggestione è quella del discorso del disincantamento rincantamento del mondo rispetto al concetto di società post secolare e allora il paragrafo 7 e 2 della vasta introduzione di 100 pagine si intitola ex voto di ieri e di oggi quando la pandemia ci precipita nel passato a un certo punto Grimaldi spiega gli ex voto nei santuari ci ricordano quello che fu e che può ancora e nuovamente accadere ecco questo questo tema del cioè il fatto di essere esposti a delle minacce che non riusciamo a controllare che sfuggono dal nostro controllo quelle alle quali non riusciamo a sottrarci genera un reincantamento del mondo questo non non saprei dire quello che mi sembra mi sento di poter dire come ipotesi di lavoro è che generi un secondo disincantamento cioè un disincantamento del mito della modernità anche presso il popolo cioè il passaggio dal registro del pericolo al registro del rischio come dice l'umano o dal del rischio del rischio esterno al registro del rischio interno che è tipico della modernità la modernità attraverso la scienza e la tecnica ci sottrae ai rischi esterni progressivamente dal punto di vista medico eccetera però persiste la percezione di una minaccia incombente la quale o non è ancora gestibile dall'uomo moderno perché trascende la sua conoscenza e le sue capacità di intervento oppure si rivela come minaccia proprio in quanto esito di un processo innescato dall'uomo moderno e poi sfiggito al suo controllo e queste sono facendo riferimento all'esempio del covid-19 che vi chiamavo anche due mari prima abbiamo tutti e due nel dibattito abbiamo avuto tutte e due queste chiavi di lettura inizialmente si diceva il covid è un virus che ha un'origine naturale però ci sentiamo minacciati perché la scienza medica non è ancora in grado di affrontarlo è una cosa del tutto nuova poi negli ultimi tempi negli ultimi mesi si è detto no è stato creato in laboratorio e per qualche strana ragione è uscito e qui quindi abbiamo una minaccia che scaturisce da un processo innescato dall'uomo moderno che però sfugge al suo controllo una cosa interessante e una curiosa coincidenza tra l'altro è che questa questa ricerca sugli ex voto naturalmente nella maggior in molti casi e anche questi sono tutti documentati sono tutte le statistiche eccetera in molti casi si fa riferimento si chiede l'intercessione della Vergine ed è interessante come studiando il fenomeno delle presunte apparizioni mariane o comunque delle devozioni mariane popolari in Europa c'è tutta una serie di fenomeni che sono classificati come definiti come apparizioni mariane dei tempi moderni e vengono fatti iniziare dalle apparizioni di Louis Dubac a Parigi nel 1830 da cui è nata poi la devozione mariana della medaglia miracolosa che è diffusa poi in tutto il mondo ecco da lì in poi è tutto un susseguirsi in Europa nei diversi paesi europei di fenomeni di questo tipo alcuni anche famosissimi come naturalmente come Ludo come Fatima eccetera qui tra l'altro c'è una curiosa coincidenza la quasi c'è una quasi quasi una sovrapposizione temporale tra questa ricerca che nasce alla fine degli anni 70 seconda metà degli anni 70 e l'ultimo di questi fenomeni di cui dicevo parlavo prima cioè il fenomeno di Međugorje delle presunte apparizioni di Mariane di Međugorje che cominciano nel 1981 e hanno fatto celebrato l'anno scorso quest'anno il quarantennio ecco però questi fenomeni cioè stanno a indicare una richiesta di un'offerta di protezione e al tempo che poi risconta una richiesta di protezione dalla sostanzialmente dalla modernità perché dai rischi della modernità diciamo il paritore di DuBac a Parigi nel 1830 e la Francia post-rivoluzionaria e poi sentivamo prima quando si facevano prima il professor Gimaldi che faceva questa statistica delle richieste degli ex voto incidenti sul lavoro le guerre mondiali ecco i rischi della modernità queste le apparizioni di tempi moderni che sono numerose molto seguite dal popolo ma non solo dal popolo sono configurate sui rischi sia sui rischi diciamo così di tipo pericolo rischi interni sia sui rischi esterni cioè prevalentemente sui rischi esterni cioè è una forma di protezione offerta rispetto a rischi della modernità ad esempio Fatima è molto è molto fa riferimento sia sui rischi alle guerre mondiali poi sappiamo che non si ferma lì però è questo aspetto molto interessante per cui come diceva giustamente prima Gimaldi è un fenomeno che continua ma sembra quasi che questo tipo di devozione si sia aggiornata proprio sulla sulla modernità cosa c'entra il concetto di società postsecolare io qui faccio riferimento al concetto di società postsecolare nei termini in cui tra l'altro lo richiama in termini richiamati da Pierpaolo Donati nel volume verso una società postsecolare che è un volume una curatela dove lui pubblica un saggio appunto sulla società postsecolare e spiega cosa si intende cosa si deve intendere per società postsecolare lui dice va intesa prevalentemente cioè preferibilmente nei termini indicati da Filippo Barbano un atto studioso sociologo torinese come Gallino Filippo Barbano illustrati da Filippo Barbano nella nella introduzione ad uno studio di Luigi Berzano che è qui presente oggi che saluto uno studio degli anni pubblicato nel 1990 che si intitolava differenziazione e religione negli anni 80 allora Donati dice lì Barbano ha definito bene società postsecolare e Donati la richiama in questo saggio dice per società postsecolare si intende la società quella società che conosce gli effetti diretti e quelli inattesi della secolarizzazione per effetti inattesi della secolarizzazione intendo i vuoti di senso e i comportamenti derivati i cosiddetti disagi della modernità per effetti diretti della secolarizzazione intendo l'acquirsi dei bisogni di senso trascendente espressi in forme irrazionali oppure di nuova razionalità società postsecolare è dunque quella società che conosce la crisi della secolarizzazione tipica della modernizzazione occidentale senza per questo uscire necessariamente da essa quindi ci sono queste due compresenze della la continua la secolarizzazione tipica della modernità occidentale però l'ingresso nell'inizio dell'epoca postsecolare segna la compresenza con essa della crisi di questa secolarizzazione che però continua ecco la crisi di questa secolarizzazione che però continua mi fa pensare appunto a quello che dicevo prima e cioè a una percezione della modernità come come qualche cosa come una qualcosa che ci espone a delle a delle minacce insieme ad una serie di vantaggi ci espone a tutta una serie di minacce è come un disincantamento del mito della modernità che però continua e quindi questo alimenta il fenomeno che il libro di 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 Renato Grimaldi ha studiato così in modo così approfondito E qui vengo adesso alla seconda, se c'è tempo, alla seconda suggestione che prende le mosse da questa prima suggestione. E cioè abbiamo una, come dicevo, come effetto inatteso della secolarizzazione o effetto indiretto della secolarizzazione, abbiamo la ridefinizione del rapporto natura e cultura nella forma di una riammissione nel campo della plausibilità razionale, riammissione nel campo della plausibilità razionale della questione inerente, il soprannaturale. E quindi il rapporto tra naturale e soprannaturale. E qui vengo alla seconda suggestione, e per questo ringrazio proprio la possibilità di aver letto, di essere stato coinvolto con questo volume, nella lettura di questo volume, perché mi ha permesso di così ricapitolare alcuni interessi che avevo e che poi però vanno a disperdersi e invece in questo modo ritornano a unità. Sono suggestioni, ad esempio, il concetto di opposizione polare in Romano Guardini, ripensando il rapporto naturale e soprannaturale, che vi acquista plausibilità razionale nella cultura moderna, in forza di quello che dicevo prima. Il concetto di opposizione polare in Romano Guardini, poi il concetto di esperienze di autotrascendenza in Hans Joas, sociologo tedesco contemporaneo, e il concetto di soprannaturalità e di sociologia del soprannaturale in Luigi Sturzo. Allora, il concetto di opposizione polare in Guardini, che naturalmente è un filosofo, bava, teologo, però mi soffermo su questo, ovviamente non possiamo approfondire in questa serie, però lui dice distinzione tra opposizione e contraddizione. Lui dice che gli opposti non sono contraddittori. Allora, bene e male sono contraddizioni, come vuoto e pieno, chiaro e scuro, sì e no, sono contraddizioni. Questa invece, lui dice, è l'opposizione, che è una cosa diversa dalla contraddizione, e cioè che i due momenti, in questo consiste l'opposizione, che i due momenti, ciascuno dei quali sta in se stesso inconfondibile, inderivabile, inamovibile, sono tuttavia indissolubilmente legati l'un l'altro. Si possono anzi pensare l'uno per mezzo dell'altro. Ecco, secondo me, è una suggestione su cui vorrei lavorare, e che questo libro mi aveva evocato. Ecco, secondo me, questo libro segna, è un indicatore del fatto che naturale e soprannaturale passano da un registro di contraddizione a un registro di opposizione, come ipotesi di lavoro. Quindi, immanenza, trascendenza, sacro, profano, umano, divino, naturale, soprannaturale, nella tarda modernità, nell'avvento della società post-secolare, passano da un registro di contraddizione a un registro di opposizione, che è un reinnesco, diciamo così, della secolarizzazione del moderno, però segnati dalla loro crisi. Non so se c'è ancora tempo. Un'altra cosa è il concetto di, un altro aspetto interessante, è il concetto di esperienze di autotrascendenza di Hansi Oas, che sta alla base della sua sociologia, anche della sua sociologia della religione, della sua sociologia dei valori. L'esperienza di autotrascendenza è un'esperienza, qui cito dalla bella introduzione di Andrea Maccarini al volume di IOS, Abbiamo bisogno della religione. Dice, l'autotrascendenza è l'esperienza di noi stessi come trascesi, oltrepassati e attratti, proiettati verso qualcosa che sta oltre i nostri confini. Tale esperienza, e questo è il punto cruciale, è fortemente attraente sul piano delle emozioni e al tempo stesso genera nelle persone un cogente senso di obbligazione, di legame. Io ho deciso subito che questo qualcosa che ci supera, ci vincola, al tempo stesso ci attrae, può manifestarsi in forme molto diverse, fino all'esperienza di ansia esistenziale o di successo sociale. La fenomenologia delle esperienze di autotrascendenza è molto varia, però ciò che tutte hanno in comune è il decentramento del soggetto, nel senso che egli percepisce il proprio limite e quindi il senso della dipendenza e del dono, e insieme riceve un potenziamento. Questa esperienza di autotrascendenza può essere un punto di ingresso, ricavato dalla teoria sociologica contemporanea, per lo studio anche degli ex voto, nei termini in cui dicevamo prima. Ecco, infine, però non credo di avere tempo di soffermarmi su questo, tutta questa questione, tutte le cose che ho detto mi portano, ma qui mi rendo conto che è una, ci si spinge in modo, è un azzardo, ecco. Però è qualcosa di attraente che mi affascina, è il concetto di soprannaturalità e di sociologia del soprannaturale in Sturzo, che lui espone appunto nel volume La vita vera, sociologia del soprannaturale, la prima edizione in Stati Uniti, 43, e poi la prima edizione italiana del 47, e l'ultima di Rubettino 2005. Anche qui, dice, la vita soprannaturale influisce su quella naturale e viceversa, vi è uno scambio importante tra l'una e l'altra. L'opzione non è mai tra vita soprannaturale e vita naturale, fra due perfezioni di ordine diverso e a fini diversi, l'opzione invece è fra la soprannatura e la sottonatura, fra la perfezione e la decadenza. In sostanza, anche lui qua richiama, dice, piuttosto c'è una contraddizione, una controposizione, se vogliamo dirlo nei termini di guardini di prima, una controposizione tra soprannatura e sotto natura, cioè tra perfezione e decadenza. Ma non c'è controposizione, bensì opposizione tra vita soprannaturale e vita naturale, come le due facce della stessa moneta che si richiamano continuamente l'una rispetto all'altra. E su questo lui imposta la sua idea di una sociologia del soprannaturale, cioè articolare una sociologia che si va ad occupare di questa cosa, di questo aspetto ontologico del reale e dell'umano. E ecco, questo libro, che ripeto, secondo me è un libro da manuale di metodologia, da un lato, e dall'altro lato apre, è un punto di ingresso rispetto a questa, alla lettura proprio delle trasformazioni in corso nella tarda modernità. E ecco, mi fermerai qui. Grazie, grazie, grazie. Molto interessante, molto. Mentre lei parlava, mi veniva in mente che questo disincanto della modernità assomiglia a un timore per avere peccato di ibris rispetto agli dèi. che ci lascia parlare, ci fa sospettare che la modernità sia stata una vernicetta e che sotto sotto ci fosse poi sempre questo. Una volta che i nostri cieli sono vuoti, oddio, abbiamo peccato di ibris e gli dèi si sono voltati dall'altra parte. Mi ha ricordato questo meccanismo particolare, particolare. Grazie. A questo punto direi che darei la parola al professor Lombardi Milo del Cotè Immaginario. Grazie, grazie, buongiorno. Credo e spero che mi sentiate. Grazie a questo Secondulfo per aver sottolineato e ribadito l'appartenenza al Cotè dell'immaginario che mi piace. Mi piace straordinariamente. Io voglio essere davvero molto breve. Generalmente chi lo dice non lo è mai. No, io voglio esserlo perché, per una serie di ragioni che non sto qui a dirvi, però ecco, il grande vantaggio che ha generalmente chi, come dire, interviene per ultimo è non soltanto la possibilità di spendersi l'aforisma di Flaiano, no? Coraggio, il meglio è passato e in questo caso mi pare che sia assolutamente perfetto, ma soprattutto si ha la fortuna di ascoltare molte cose interessanti, detto con la massima sincerità e autenticità, cose talmente interessanti che ovviamente ti autorizzano a in qualche modo a resettare lo schema più o meno concettuale che ti eri preparato per intervenire e in qualche modo rivendicare la libertà di andare, come dire, random, senza nessun tipo di vincolo argomentativo perché sono state dette delle cose molto interessanti a partire da Renato Di Manti, appunto, che ringrazio per questo volume davvero monumentale, come diceva Emanuela, e lo è assolutamente. Lui ci poneva questo interrogativo, c'è un luogo degli ex voto e ci sono elementi ricorrenti. Poi penso anche a Luigi Berzano che metteva in evidenza alcuni aspetti comunicativi che a me interessano molto per le ragioni che dirò tra poco, e anche in riferimento alla società postuale e postrituale, società postrituale e aspetti comunicativi che sono stati ripresi da Emanuela Ferreri da un versante antropologico e poi poco prima di me appunto il collega Scalon metteva in evidenza quegli aspetti legati al rischio, ai disagi della modernità che tornano estremamente utili anche al sociologo dei processi culturali e comunicativi. Innanzitutto vi ho dimostrato che sono stato attento e ho seguito passo passo tutto, ho preso appunti e quindi sono stato estremamente dirigente. La sociologia del sopranaturale mi faceva riferimento Scalon e penso ad alcuni frame a proposito anche della della sterilizzazione del sacro cui facevi riferimento tu, Domenico, poco fa. E ho pensato ad alcuni frame della seconda stagione della serie tipo di Paolo Sorrentino, del New Pope, in cui appunto abbiamo Jude Law e John Malkovich che si alternano nei panni del Papa di turno e in cui alcuni temi, il terrorismo, la postsecolarizzazione, l'individualizzazione della fede, sono temi che in qualche modo ritroviamo in questo in questo volume che a me personalmente ha interessato soprattutto per quella prima parte, per le due parti che sono estremamente estremamente interessanti dal punto di vista culturale, dal punto di vista, dal punto di vista della rappresentazione di una certa identità culturale, sospesa dal mio modestissimo punto di vista, tra ricerca sicuramente di un'alterità, ma anche allo stesso tempo, lo metteva perfettamente in evidenza appunto Renato Grimaldi, la ricerca di un approgio, di un approdo, di un pubblico, di un sistema che a volte appunto, come diceva il professor Seconduffo, ci porta a pensare che in qualche momento della storia i dei o Dio si sia si sia girato dall'altra parte, ma allo stesso tempo tutta una serie di ancoraggi e aderenze alla nostra evidentemente situazione mondana, tra virgolette mondana, e allo stesso tempo questo anelito di ricerca di un'alterità e di un'eternità mai venuta meno, evidentemente nel corso della storia, che configurano questi fenomeni, configurano gli ex voto non soltanto evidentemente delle rappresentazioni di un mondo interiore che diventa inevitabilmente pubblico, e lo è stato detto più volte, ma allo stesso tempo l'ex voto come segno, e lo metteva in evidenza poco fa il professor Seconduffo, pone tutta una serie di questioni che, devo dire, sono argomentate, affrontate in maniera molto precisa, soprattutto per esempio nella parte prima del libro, che è intitolata Verso uno schema concettuale. L'ex voto è una forma narrativa, è una forma rappresentativa, è una estrinsecazione di tutta una serie di istanze volte alla ricerca della sicurezza e volte anche ad esorcizzare quell'insicurezza a cui faceva riferimento poco fa il collega Scalon. Io credo che l'aspetto comunicativo, faceva riferimento anche evidentemente a Berzano, ma anche a Emanuela Ferreri, quando si faceva riferimento al mondo della rete, alla compra vendita, all'acquisto, alla cessione di ex voto. Tutto questo credo che sia estremamente utile e interessante per farci comprendere che evidentemente determinati paradigmi comunicativi non solo non sono venuti meno, ma acquistano al tempo della riproducibilità tecnica, più che tecnica, digitale dell'opera d'arte, dei simboli, dei segni, dell'icone, acquista tutto questo un significato comunicativo in qualche modo risemantizzato. Perché sto dicendo tutte queste cose? Perché a me interessa evidentemente molto il discorso comunicativo, narrativo e anche evidentemente rappresentativo. Estremamente interessanti ovviamente i riferimenti per esempio a Cesare Pavese, di cui è citato quel racconto breve intitolato del mito, del simbolo e altro. Naturalmente non entro nella questione anche come dire etnografica delle ricerche svolte, ma naturalmente Pavese giocava in casa appunto da buon piemontese, da buon studioso di Nissea Eliade. Quindi Eliade o Eliade. Allo stesso tempo la poesia di Pavese, I mari del sud, che ho appreso essere stata ispirata appunto dal santuario della Madonna della Neve o di Moncuccio, presso Santo Stefano Belbo. Carlo Levi, Il futuro ha un cuore antico, ma perché no? Matilde Serau, Il ventre di Napoli, 1884. E perché no? Emile Zola, Lourdes, 1894, che è lo stesso anno in cui viene pubblicato Il trionfo della morte, che naturalmente cito in onore della professoressa di Nicola, per ovvie ragioni di ascendenza bruzzese, Il trionfo della morte, il libro quarto in cui d'annunzio descrive il pellegrinaggio dei fedeli al santuario di Casalburdino della Madonna dei Miracoli. Tutta una serie di descrizioni e rappresentazioni della fenomenologia del sacro, però riprodotta e rappresentata secondo una direzione iconografica volta al deforme e volta a rappresentare gli aspetti anche più angoscianti e anche più suggestivi del sentire religioso. Sempre in questa prima parte si fa riferimento anche al libro del collega, dell'amico Alessandro Perissinotto, L'anno che uccise Rosetta, in cui torna il tema dell'ex voto. E qui tutta una serie di riferimenti letterari che potrebbero incrociarsi con una serie di riferimenti pittorici cui pure nell'introduzione di Renato Grimaldi si fa riferimento. Per esempio nella vita, nelle vite di Giorgio Vasari, nella vita del Verrocchio, di Andrea Verrocchio, nella vita di uno uno dei più importanti pittori manieristi, Francesco Salviati, si fa riferimento, si descrive l'arte e anche se vogliamo l'industria da bottega impegnata nella realizzazione degli ex voto nella Firenze del Quattrocento, i cosiddetti voti, queste figure che venivano realizzate in argentale o in cera che avevano tra le altre cose una straordinaria resa realistica. Quindi c'è un luogo degli ex voto, questa è una delle domande appunto liminari che poneva Renato Grimaldi. Certo è che la dimensione segnita degli ex voto pone anche alcune questioni semiotiche. Penso innanzitutto al saggio di Simona Maria Cavagnero, la complessità dell'ex voto forme, funzioni e linguaggio. Quale tipo di funzione ha avuto l'ex voto nel corso, nel corso della storia? Una funzione documentaria, una funzione narrativa, una funzione sociale, ma anche evidentemente soprattutto credo una funzione devozionale. Penso al saggio di appunto Gianni Carroscioglia che è incentrato sulle rappresentazioni sulla letteratura artistica antica e sul dibattito critico dalla seconda metà del diciannovesimo secolo ad oggi, sempre inerente all'evoluzione dell'ex voto e alla rappresentazione del sentire, del sentire religioso che però naturalmente, come sottolineava Renato Grimaldi, è generalmente ancorato a determinate istanze devozionali e anche evidentemente personali. Gli ex voto è la memoria culturale, la prospettiva semiotica che è indagata da Jenny Ponzo perché evidentemente se solo pensiamo a determinati studi di Umberto Eco ma anche evidentemente di Roland Barthes ci rendiamo perfettamente conto del fatto che poi il mito fondamentalmente è un sistema semiologico secondo e penso tra i tanti luoghi che vengono citati all'interno del libro penso ad un luogo a me molto caro ad esempio che non credo che sia nominato, non mi pare che sia nominato del libro, penso alla sacristia del santuario di Loreto che è affrescata dal baciccio e dove si possono ammirare alcuni ex voto oggettuali straordinariamente suggestivi. Ma il libro è monumentale e ogni libro è monumentale perché questo libro di ricerca monumentale offre tutta una serie di suggestioni e di spunti, di riflessione che ci portano a considerare evidentemente l'ex voto non soltanto un medium comunicativo ma allo stesso tempo ci consente di approcciarci a questo tipo di materia come da un certo punto di vista ha tentato anche di fare per esempio Ulrich Beck nel Dio personale o penso al libro di Sloterdijk Il furore di Dio perché si parlava, lo diceva Scalondi, di disincantamento della modernità, dei disagi e della modernità. E allora credo davvero in conclusione di poter dire che questa ricerca meravigliosamente sospesa tra dimensione qualitativa e quantitativa del sentire religioso però naturalmente inquadrato da una prospettiva privata personale che diventa ineludibilmente pubblica. Bene, questo tipo di ricerca ci richiama all'importanza naturalmente della narrazione dell'interiorità e ci richiama anche a quell'importanza del riconoscimento e della gratitudine verso qualcuno. Penso naturalmente al De Beneficis di Seneca ma penso anche a Marcel Moss, cui si faceva riferimento poc'anzi a proposito del saggio sul dono. Io, professor Simonulfo, mi fermerei qui perché voglio essere di parola e quindi davvero mi fermo. Grazie. Grazie Andrea, grazie anche dei tempi, ma siamo molto sereni sui tempi, siamo ampiamente nei tempi. Quindi la cosa che mi viene in mente era l'effetto testimonianza che richiama il discorso della comunità fatto all'inizio. La testimonianza è la maggior gloria della divinità per questo. Questa è un'altra delle componenti secondo me del risultato. Ma io ho già provato via, mi sono sempre intrufolato quindi ho già provato via abbastanza. A questo punto io aprirei la discussione anche a chi vuole intervenire tra le persone che ci stanno seguendo e se subito prenotato, se ho ben presente, Fabio D'Andrea, al quale le do la parola. Grazie. Prima di tutto appunto da ospite in questa serie di incontri volevo ringraziarvi e scusarmi per la presenza un po' a spot ma purtroppo è un momento veramente complicato, soprattutto con l'apertura del nuovo semestre e quindi ho avuto da sbrigare una serie di questioni. Non che non abbia ascoltato con grande interesse anche se come dicevamo già all'inizio anche col professor Grimaldi in modo purtroppo un po' frammentare appunto visto che non si riesce a stare concentrati un attimo sulle cose però ad ogni modo insomma diciamo che il ringraziamento soprattutto il clima che respiriamo in questi incontri a me piace molto ed è uno dei motivi per i quali appunto vi ringrazio e ho cercato di creare uno spazio così senza fretta appunto nel quale potersi confrontare anche su argomenti magari che nell'agenda pubblica o dettata dal ministero hanno un po' meno spazio. Volevo aggiungere una cosa perché devo dire che appunto gli stimoli sono sempre estremamente ricchi in questi casi e soprattutto con le mie due sezioni di lezione nel senso che religione è un tema che mi è sempre interessato e quindi lo trovo molto molto vicino, molto molto ricco nelle sue interazioni con le nostre tematiche immaginarie. Però volevo appunto aggiungere, suggerire una traccia di riflessione per quanto riguardava soprattutto quest'ultimo discorso sui limiti della modernità, la hubris, l'incertezza e via discorrendo e riprendere una delle istanze di Simmel su questo tema che a me piace molto, devo dire che forse meriterebbe di essere riflettuto un po' di più, nel senso che nella religiosità come ricorderete Simmel individua una forma di costante antropologica, cioè in questa tensione verso il trascendente, qualcosa che ci caratterizza. E io ultimamente, ultimamente, negli ultimi anni ho messo spesso in rapporto questo tema con un'intuizione di Eugen Fink, che è un filosofo che si è occupato secondo me in modo eccellente, pur non scrivendolo di questo tema, che in un'opera che si chiama Il gioco come simbolo del mondo pone una ipotesi veramente, secondo me, estremamente affascinante, basata su un frammento di Eraclito. Il frammento di Eraclito è quello dell'intelligenza del fuoco, probabilmente lo avrete presente, nel quale si dice appunto che gli uomini e gli dèi hanno entrambi intelligenza del fuoco, seppur a livelli diversi. Il che secondo Eraclito, secondo Fink, no, secondo Fink, perché Eraclito, come sapete, è l'oscuro, quindi non abbiamo ben idea di quello che intendessimo, insomma, diciamo che ci si può provare, visto che è un'oscurità, secondo me, costruita da una prospettiva moderna, ma altrimenti non particolarmente oscura. Però comunque, il punto qual è? Che il trascendente è più ricco della divinità. Allora, uno dei punti che vengono appunto, in qualche misura, messi in luce da Fink è esattamente questo, che dice, noi abbiamo deciso che Dio era la fine del discorso della trascendenza, dal modello Eracliteo, da quest'idea Eraclitea, da questo fulmine, potremmo dedurre che c'è altro, cioè oltre agli dèi c'è altro. E questo, secondo me, è un tema estremamente affascinante da prendere in considerazione, perché in effetti questo rinvio al trascendente può, in una prospettiva inclusiva, quindi in un paradigma et-et, rinviare chiaramente alla divinità quale che essa sia e come essa venga interpretata. Però non è detto che la figura della divinità esaurisca la trascendenza, nel senso che se noi raggiuniamo nell'ottica della realitet tedesca, del fluire del mondo privo di senso infinito, cui accenna Weber nella sua bella descrizione della cultura, potremmo immaginare o provare a immaginare che ci siano altre soglie ed altri mondi che possono in qualche misura essere in costellazione al di là di quello che è la nostra percezione del reale e che, ed è quanto ci interessa secondo me di più, hanno molto a che fare col modo nel quale noi concettualizziamo e creiamo il reale. Quindi credo che da questi stimoli, dal fatto che appunto il discorso sulla fine della religione, sulla secolarizzazione, eccetera, eccetera, sia un discorso che secondo me va attarato con molta, come dire, attenzione e cura su una prospettiva moderna, perché è un po' quello che è il discorso che fa Fink poi sul gioco, ovvero sia che lo sguardo che è disincantato non è il mondo a essere disincantato, siamo noi che abbiamo adottato lo sguardo cattivo e che quindi non riesciamo più a vedere la ricchezza della rappresentazione, la ricchezza della tessitura del reale. L'esempio bellissimo che viene fatto in questo libro è noi quando andiamo a vedere un attore vediamo semplicemente qualcuno che interpreta un ruolo e non vediamo ciò che viene evocato da quell'interpretazione. E quindi è uno dei motivi per i quali non capiamo più neanche la tragedia greca, nella quale gli autori erano degli strumenti, erano qualcosa che in qualche modo come dire, elaborava una trama dalla quale veniva il resto dell'incanto e la capacità di rapimento che ne conseguiva. Noi siamo rimasti a vedere semplicemente ciò che è lì, quello che pensiamo sia lì fondamentalmente, quindi ci siamo autolimitati in questo. Io credo che invece questo tipo di stimoli e questo tipo di riflessioni potrebbero portare a un reincanto che va ben oltre quello degli effetti speciali dei media, di tutto quello a cui ci stiamo abituando purtroppo in questo momento per ridiventare componente attiva della creazione e della gestione della realtà. Vi ringrazio. Ecco il resto, Fabio. Ecco, se qualcuno, io non vedo mani alzate, ma ecco c'è un dito alzato. Antonio. Allora, buongiorno a tutti e a tutti e grazie mille a tutti per gli interventi molto, molto interessanti. Io in maniera un po' egoistica fletterò alcune delle mie domande su interessi più, diciamo, personali di ricerca. Sto cercando di, diciamo, prendo parola come sociologo della religione, vai se mi devo dare proprio una definizione al volo, e nel senso che sto cercando di lavorare sulla questione annosa del dibattito tra religione e spiritualità, diciamo, focalizzando l'attenzione sull'indebolimento della relazione sociale con il trascendente. Cioè, sono abbastanza persuaso al momento, ma sono pronto ad ogni conflutazione, ovviamente, che la spiritualità si risolva nella dimensione immanente, definizione chiaramente che può essere parecchio contraddetta, mi rendo conto, e invece che la religione conservi, pur in maniera indebolita, a mio avviso, una relazione col trascendente. E questa è la mia traccia di lettura di questo complicato fenomeno. All'interno di questo articolato dibattito, c'è la questione centrale, secondo me, del nesso, che ho cercato anche di esporre ultimamente in convegno AIS, del nesso salute e salvezza, che è un nesso molto, diciamo, anche dibattuto, importante, ed ecco però, da questa piccolissima premessa, scaturisce la mia prima domanda. A netto del fatto che secondo me si è consumato, per l'appunto, un indebolimento della relazione sociale con il trascendente, anche nell'ambito del religioso, e altro dato che è rilevato, tra l'altro, empiricamente da ricerche ultime, fatte per esempio, penso a Roberto Cipriani e Franco Garelli, ha una credenza incerta nell'aldilà. Ho un po' mutuato uno dei titoli delle loro ricerche e l'ho, diciamo, glossato con la questione dell'aldilà. Una credenza incerta nell'aldilà. Ora, quello che mi colpisce, dunque, prima parte del mio intervento, e questa è la domanda che farei al professor Grimaldi, qui ringrazio per la, tra l'altro, chiarissima introduzione a un lavoro così corposo, che io ho soltanto scaricato, ammetto, è sfogliato, ma non letto e studiato, non ho avuto il tempo e me ne dispiaccio, le questioni dell'ex voto mi pare che abbiano come centralità la questione del corpo. Io so che nel cristianesimo il rapporto, diciamo, la concezione del corpo, è una relazione molto ambivalente, perché da una parte è fonte di, diciamo, sede privilegiata del peccato, come intesa, come dimensione carnale, dall'altra però c'è tutta una letteratura che afferma invece l'importanza del corpo, si pensi al momento dell'incarnazione, per cui se Dio si è fatto carne, si è fatto corpo, il corpo non può essere più tacciato esclusivamente di essere la sede del peccato. Però mi pare che negli ex voto, almeno quelli, ripeto, rappresentati nella chiarissima presentazione e introduzione del professor Grimaldi, ci sia sempre la ricerca della fatica a dire salvezza, soltanto per portare acqua al mio mulino, nella riflessione nesso salute e salvezza, ma invece, diciamo, impetrare la salute del corpo. Quindi siamo di fronte a quello che lui, secondo me, in maniera molto puntuale, ha definito scopi ultimi in quel modello. Si contrappone, a mio avviso, se voglio giocare su queste antitesi, alla questione invece dei significati ultimi, perché il significato ultimo, qui tradisco la formazione fenomenologica, dei significati ultimi atterrebbero invece a questioni di carattere ultraterreno. Qui si gioca, secondo me, la partita anche della complicatissima definizione del sacro, del trascendente, perché c'è tutta la partita tra immanenza e trascendenza che non è facilmente... E quindi questa è la mia prima domanda. Negli ex vuto, la richiesta di intervento del soprannaturale, del Dio, della divinità o della Vergine, come si è detto negli interventi precedenti, è sempre a vantaggio del corpo o c'è una rappresentazione invece che si declina nella salvezza dell'anima? E se, diciamo, in quale... Se c'è una trasformazione, diciamo, dato che c'è uno studio così di lungo periodo, se è possibile trovare un frame, ma anche temporale, rispetto a questo. Questa è la prima parte dell'intervento, poi finisco, la seconda è molto più breve. Trovo molto interessante invece negli interventi, sono fatte moltissime cose, diciamo, anche, come dire, il cascame postmoderno delle riflessioni sugli ex voto diventati merce, no? Non sappiamo che la mercificazione è il contrario del sacro, perché profana, e quindi c'è tutta un'azione postmoderna della possibilità, della dimensione estetica dell'ex voto. Questa è la riflessione o il passaggio da simbolo a segno che faceva riferimento a Secondulfo prima e a Ferreri prima. Volevo dire soltanto una brevissima cosa. Ecco che nella presentazione, nel commento molto puntuale del collega Scalon, c'era la questione della reammissione, ho scritto, non so se riesco a citare testalmente, reammissione all'interno di una possibilità razionale dell'irruzione, dell'ingresso del soprannaturale nel mondo naturale. Questa è, secondo me, una definizione importante, soprattutto in ambito, nello scenario pandemico che noi stiamo vivendo, perché questa è un'ottima, diciamo, definizione che secondo me ha fondamento anche della diffusione delle teorie del complotto nel mondo contemporaneo, già diffuse negli ultimi decadi, fortissimamente diffuse invece in epoca pandemica, quella che noi stiamo attraversando. Poiché c'è la... Io ho dato una definizione, scusate se mi è autosciuto, ho provato a dare questa definizione, dire l'incanto notturno del mondo. Cioè la minaccia della pandemia, questa, diciamo, una situazione marginale su scala planetaria che viene a minacciare l'esistenza degli uomini, si risolve in una forma di reincanto notturno. Cioè la minaccia si traduce in un pensiero magico che prevede l'intervento di una serie di famiglie che cospirerebbe all'annientamento dell'umanità. E questo è un ingresso nella possibilità razionale, una razionalità complottista, di un intervento che però si risolve nella dimensione immanente. Quindi è una possibile analogia con la definizione che ha dato Scaloni. e niente, vi ringrazio per avermi così impazientemente ascoltato in questo lungo commento. Grazie, grazie dell'intervento. Qualcun altro ha qualcosa da dire? Le mani assate non le vedo, quindi qualcuno le agiti se vuole parlare. Ecco, Maria Concetta. Prego. Devi aprire il microfono, Cettina. Intanto vi ringrazio per l'invito e confesso io di non avere letto il libro di Renato ed essere arrivata al... quindi il mio intervento è forse proprio poco utile. Comunque, di essere arrivata al momento in cui Renato, che è una persona che considero non solo un grandissimo studioso, ma anche un carissimo amico, presentava quello schema riassuntivo, prevalenza di uomo, di donne, e quindi la dicotomia altruismo-egoistico, prevalenza di donne nel primo caso, prevalenza di maschi nel secondo caso. Però prima di questo vorrei dire un'altra cosa che mi è venuta in mente. Scalon ha riportato testualmente un'affermazione di Grimaldi che io apprezzo moltissimo, che si confutano, noi siamo in grado di confutare ipotesi precise e non teorie. E allora, in questa epoca che io almeno, forse nella mia vecchiaia, come pessimista, comincio a vedere una specie di scientismo strisciante con una forte tendenza, con una ripresa, secondo me, neanche forse esplicita del modello ipotetico-deduttivo e anche di Popper, tutta quella storia della confutazione delle teorie, che si puntualizzi e noi siamo in grado di confutare o meglio, di sottoporre a controllo empirico, così mi piace dire, ipotesi specifiche, mi pare una cosa importantissima da fare. Mi preoccupo, invece, ritornando a quella cosa che dicevo prima dell'egoismo e altruismo, donne che fanno ex voto di tipo altruistico, uomini che fanno minorare, sono una minoranza e fanno altruistica ed uomini egoistico. Allora, intanto, la prevalenza delle donne, io vorrei, cioè si presta la prevalenza che ci siano molte più donne e almeno, io da siciliana forse con l'esperienza della visione della religione molto profana siciliana, cioè in Sicilia la religione è cosa da donne, ci vanno gli uomini, le donne in chiesa, se ne occupano un poco più, le donne, gli uomini molto meno, quindi se c'è da fare un ex voto per occuparsi di una faccenda del genere se ne occupa la donna e non se ne occupa l'uomo. Questo, quindi, prevalgono le donne solo per questo fatto, per il fatto che le donne in genere si occupano di religione e non gli uomini se ne occupano di più. Poi, mi viene da dire, è sicuramente altruistico fare un ex voto per il marito, per il figlio o per una parte della famiglia che è una parte di sé ed è egoistico necessariamente fare la richiesta per se stessi, può essere anche un fatto contingente che uno lo richieda per se stessi perché sta male quello e non sta male un altro membro della famiglia. Comunque, io non ritengo che sia necessariamente altruistico, però può darsi che Renato queste cose le spieghi meravigliosamente durante tutto il volume e io mi stia fermando solo all'interpretazione dell'ultima scheda. Quindi, non necessariamente mi sembra egoistico e altruistico chiedere una grazia, fare un ex voto per una parte della famiglia che in fin dei conti può essere considerata come un'estensione del sé. e quindi se vogliamo adottare termini come egoismo potrebbe essere egoistica anche questa forma, cioè sarebbe altruistico necessariamente bisognerebbe depurare allora e magari sarà stato fatto quindi io non altruistico potrebbe essere un ex voto per una persona un ex voto di carattere universalista cioè per la pace per i bambini che soffrono in un'altra parte del mondo eccetera ma se l'ex voto è per un membro vicino del soggetto temo che sia pure questo non necessariamente altruistico non so quanto sia utile siano utili queste mie osservazioni perché di fronte a un pubblico di esperti di religione veri esperti di religione io appresso l'aspetto metodologico e innovativo e ringrazio Renato proprio perché ha fatto un lavoro di questo genere che esce un pochino dagli schemi tipici della survey con le ristrettezze e i prezzi semantici enormi che si pagano con questo schema scusate mi ho preso anche troppo tempo no grazie 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 Maria Concetta qualche altra intervento direi di no allora a questo punto darei la parola di nuovo a Renato Rimaldi per che ci dica quello che desidera dopo questa passata di impressione posso di nuovo ricondividere magari un attimo lo schermo così come vuoi come vuoi senti ci prova vediamo se voi vedete adesso io perfettamente allora comincio dal fondo perché mi è più semplice dopo l'intervento dell'amica Maria Concetta Pittrone che saluto e ringrazio noi siamo noi siamo stati per lungo tempo nella sezione di metodologia assieme questo è un bel ricordo me lo porto nel cuore e quindi ti ringrazio anche di essere qui oggi allora ecco una cosa che io ho notato la prima tu dici è un affare di donne no e in realtà però se andiamo a vedere e andiamo a vedere questa slide che riporta qui solo delle percentuali ma te le racconto perché adesso andarle a prendere proprio i numeri sarebbe complicato ecco il fatto importante che qui abbiamo guarda di questo tipo di ex foto qui che secondo il modello di Gallino era strategia di identificazione io che mi identifico con un altro diverso da me che poi è vero che è un pezzo di famiglia come tu mi hai fatto esatto allora siccome poi anche con gli studenti perché nella lunga preparazione di questo volume ho lavorato moltissimo con gli studenti e se vedrai poi la bibliografia avrò messo almeno 100 tesi che sono state discusse in questi 40 anni allora nella strategia di identificazione vedi questa donna si identifica con in questo caso potrebbe essere il figlio il marito eccetera quindi c'è un processo di identificazione che abbiamo che ho voluto chiamare altruistico anche proprio per semplificare quando ti dicevo con gli studenti mentre invece la strategia di individuazione io chiedo per me stesso quindi tra virgolette sono egoista quindi sono venuti fuori egoismo e altruismo proprio anche per semplificare queste due strategie che sono alla base del modello di attore sociale ego questa è la cosa importante ecco io mi aspettavo anch'io che i committenti degli ex voto fossero per lo più di genere femminile mentre invece se tu calcoli che questo tipo di ex voto qui ad esempio riguarda i due terzi del corpus votivo e sono per il 72,5% dei maschi che sono i committenti di questa di questa cora e qui allora ho letto male lo schema evidentemente scusami quindi anch'io pensavo che all'inizio che la scena dell'ex voto sarebbe stata calcata per lo più da donne che sarebbero state le committenti poi alla fine mi sono dovuto ricredere ecco per cui gli uomini sono e sono molto presenti sono molto presenti all'interno delle tavolette votive dipinte sia come attori che calcano come miracolato come richiedenti ma anche proprio come committenti quindi coloro che vanno dal pittore e fanno fare e pagano l'esecuzione di questa tavoletta votiva dipinta ecco quindi questa è la prima cosa forse ancora potrei dirti che non so se ah no forse è il collega aspetta il collega Antonio Camorrini sei tu che mi chiedevi del corpo no del corpo della tua ecco sì è vero prima ho detto il prossimo libro che farò anzi che lo chiamerò mi piacerebbe chiamarlo corpi che sopravvivono due punti per grazia ricevuta perché è un florilegio l'ho detto già prima un florilegio di corpi se tu vai a un santuario vedi dei corpi pensa che Paola Borgna che era collegata fino a pochi minuti fa e poi ha dovuto assentarsi perché c'era una riunione per le riviste lei è una coordinatrice delle riviste di sociologia e quindi ci ha abbandonato ha fatto proprio un capitolo sul corpo negli ex vuoto credo che l'abbia chiamato anche corpi in azione eccetera per cui il corpo negli ex vuoto è centrale e lei l'ha studiato proprio anche in un capitolo in questo libro e addirittura aveva voluto un ex vuoto per rappresentare un suo vecchio volume che aveva fatto da Rosenberg e Seye appunto credo che l'abbia chiamato proprio corpi in azione allora ci sono anche ma solo i corpi prevede il modello ego di Gallino no guarda che è possibile anche che la grazia sia rivolta per il sistema di orientamento quindi per quei valori idee valori non so io ad esempio ho molti ex vuoto di partigiani che hanno fatto degli ex vuoto proprio per non per il proprio corpo ma proprio perché hanno vinto una certa battaglia hanno portato a termine un certo obiettivo e poi e quindi ecco questo potrebbe stare di più sul versante del soprannaturale poi ecco adesso vado avanti leggermente per farti vedere forse che c'è questi li ho tenuti in canna nel caso avessi delle domande ad esempio guarda che all'inizio quando parlo all'inizio nel 1500 quando i primi 200 anni il numero più alto di ex vuoto era quello del cosiddetto orante voto segreto quindi dove vedi c'è una persona che prega noi non sappiamo il perché ma molto probabilmente sono motivi diciamo così rivolte al soprannaturale e non al corpo o almeno questa è un'ipotesi che noi facciamo che quindi potrebbe andare nella tua direzione quando tu mi chiedevi appunto ma è solo per il corpo no gran parte per il corpo però ce n'è una quota che è andata a morire ecco questo te lo posso dire io ho anche i grafici nel libro se avessi tempo te li andrei anche a cercare però l'attore orante che era prevalente diciamo così nei primi ex voto è andato a morire proprio perché adesso diciamo così ci sono gli ex voto di infortunistica dove c'è il grande incidente automobilistico c'è il grande incidente sul lavoro però c'è una parte cospicua di ex voto rivolti appunto così al soprannaturale ecco e non direttamente verso il corpo anche se lo ripeto ancora una volta il corpo è fondamentale all'interno delle tavolette votive dipinte e poi ecco mentre mi è capitato di vedere degli ex voto che vi avevo messo che avevo come detto prima messo in canna mi viene in mente quello che citava chi citava aspetta adesso ho fatto un po' di confusione con gli appunti Andrea Lombardinillo sei tu che hai citato Pavese hai citato Perissino otto hai citato altri pensa la soddisfazione che ho avuto io quando andando a Loano che è un posto che frequento d'estate per così in Liguria vicino in provincia di Savona entro in una chiesetta la Madonneta poi vado a vedere pensa c'è un loanese che si è imbarcato sul Narcissus cioè proprio la barca del negro del Narcissus di Conrad e che quindi fa un ex voto adesso non leggo male sono fatto al Vergine Maria 1800 qualcosa comunque nel 1899 pensate che si è salvato poi dopo ho letto da altre parti che il Narcissus è affondato davanti a San Paolo pochi mesi dopo quindi magari ha fatto questo ex voto per essersi salvato da una tempesta che aveva colpito questo 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 vascello questo Narcissus e poi invece è affondato pochi mesi dopo mi pare di ricordare appunto davanti a San Paolo del Brasile o comunque in quell'area lì ecco quindi tra l'altro appunto mi parlavi dei Boti parlo sempre di Andrea Lombardi Nilo dei Boti che hai letto in quell'interessante capitolo di Nanni Sciolla che ho già citato prima e che è stato professore di storia dell'arte pensate che quando sono andato a Tre Castagni che è il santuario che si trova sopra Catania ho trovato ancora dei Boti e cioè delle delle figure di cera che sono stati i primi ex voto e ho chiesto ma com'è possibile che qui in questo santuario ci siano ancora dei Boti cioè delle figure di cera come ex voto e perché qui abbiamo ancora i ceraioli a Catania e quindi ancora adesso fanno degli ex voto dove lo vedrete poi nel libro se avrete la bontà di scorrerlo ne ho riportati ho riportato un paio di fotografie dove c'è proprio la figura del bambino oppure dell'arto ammalato figure in cera che quindi sono evidentemente si sono sciolte no non hanno non si sono mantenute mentre invece a Tre Castagni cioè proprio sull'Etna in questo bel santuario si sono mantenute perché ci sono ancora i ceraioli quindi ancora adesso il rettore mi ha detto che gliene portano poi vabbè le suggestioni adesso sto rispondendo un po' a caso alle suggestioni che mi sono arrivate abbiamo già visto Scalon prima parlavi del che ormai la modernità ci espone a minacce e sì l'abbiamo visto e quell'ex voto del Covid che vi ho mostrato prima ci dà proprio l'idea di questo no che vi ricordate la citazione che aveva fatto questo questo signore dunque adesso devo trovarlo dove era già eccolo qui qui mi sentivo forte potente che nulla mi scalfisse ma il virus ha prevalsi ed è stata una grande lezione di umiltà quindi l'ex voto che diventa appunto la modernità che ci espone a dei pericoli e anche quando ti sentivi forte potente poi in realtà devi ricorrere al soprannaturale perché poi non c'è niente da fare vai a finire lì in terapia intensiva da un momento all'altro e questo poi ho avuto l'occasione poi di sentirlo questa persona era uno sportivo che ha fatto il cammino del santuario del cammino di Santiago di Compostela quindi non era l'ottantenne a cui di solito si fa riferimento e vabbè sono le persone più fragili che se ne vanno no no questo era uno sportivo si è fatto tutti i cammini vari eccetera eppure è finito lì ha fatto e ha quindi ha dovuto ricorrere alla terapia intensiva e ringrazia il soprannaturale ritiene che oltre alla terapia intensiva ci sia stata anche Sant'Anna che ha messo che ha messo la sua che ha messo che ha fatto la sua intercessione mi viene poi ecco ringrazio Emanuela Ferreri per quei riferimenti che ha fatto a cui tengo moltissimi cioè il fatto di scoprire che ha studiato anche lei con Cirese su Cirese sui libri di Buttitta tra l'altro ho riportato in questo volume tutta la schedatura di un santuario che si trova vicino a Palermo che ha fatto Antonino Buttitta Altavilla Milicia o Milicia adesso in questo momento non mi ricordo più come si pronuncia è un santuario che Buttitta ha schedato e mi aveva dato tutte le schede per cui io sono riuscito ad inserirle all'interno del nostro database appunto anche qui si parla di gioielli che interpretano i quadretti Emanuela parlavi di questo fatto il fatto che poi Domenico parlava appunto di questa sterilizzazione del sacro radical chic tenete conto che è uscita perfino una canzone ex vuoto mi pare negli ultimi sì proprio mentre c'era la pandemia mentre scrivevo il libro non ho voluto inserire nemmeno il riferimento però effettivamente c'è stato questo passaggio anche appunto di questa forma di cultura popolare anche in questi in questi oggetti in queste in queste forme Berzano poi appunto ecco ha messo ha messo in luce il fatto che nelle tavolette votive scorra il DNA della comunità e lui dice ma adesso chissà può darsi che dal luogo santuario che noi abbiamo individuato come luogo delle tavolette votive dipinte si sposti ad esempio nel campo dei social sì anche io come diceva Domenico all'inizio non l'ho ancora vista questa forma qua non so se sono stato disattento ma proprio di vedere ex voto all'interno dei social non mi è ancora capitato però evidentemente hanno cambiato forma quello che noi vediamo adesso proiettato è un raro esempio di immagine votiva con la struttura che delle tavolette votive dipinte adesso come dicevo all'inizio sono prevalenti gli ex voto di tipo fotografico fotografo la macchina demolita con cui ho fatto l'incidente faccio la fotografia al tornio che mi ha rischiato di prendermi la vita di tagliarmi di portarmi via la mano eccetera eccetera ecco quindi sicuramente hanno hanno cambiato forma però continuano a essere ad essere presenti Roberto Scalon sì l'abbiamo detto appunto la modernità che ci espone quindi ecco non so se non credo di aver risposto a tutte le suggestioni anche perché le vostre le ho prese veramente come suggestioni che sono venute fuori da questo volume che però ho capito è stato apprezzato il fatto che sia come dire stata redatta sia stata scritta una ricerca empirica che parte da un modello teorico robusto ecco questo è un fatto che io ho molto apprezzato che voi mi abbiate restituito perché devo dire che questo come metodologo della ricerca perché lo ripeto ancora una volta io sono un metodologo della ricerca era la cosa che mi faceva più piacere ecco grazie domenico eccoci grazie 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 mi mi permetterei qualche riflessione anch'io sfruttando diciamo così il potere del microfono cose che mi hanno colpito man mano che si si dipanava il discorso intanto il fatto tornando anche agli affari di donna di cui parlava Cettina che sia un culto sostanzialmente mariano e anche che da quello che ho potuto capire quando qualche altra immagine qualche altra entità viene coinvolta che non sia la Madonna si tratta di sante più che di santi nella grandissima maggioranza e questo è un grosso un grosso tema anche proprio per i sociologi dell'immaginario l'aspetto giudicante viene lasciato nella nostra religione al maschile il giudizio universale eccetera e l'aspetto accogliente non giudicante al femminile probabilmente è una alle radici nella delle strutture arcaiche e questo è sicuramente qualche cosa che dovrebbe mobilizzare i sociologi durandiani dell'immaginario la seconda cosa è la cosa meravigliosa della tavoletta in sé che ci riporta una rappresentazione pittografica di una fetta di immaginario il mondo immaginario in cui vivono quelle persone che hanno fatto la tavoletta prevede i santi in cielo e ci sono tant'è vero che poi ce li mettono siamo noi che non li vediamo nel loro cielo ci sono e questa è una cosa assolutamente meravigliosa per uno studioso di immaginario e di cultura materiale è una rappresentazione sociale che ci viene portata in mano veramente veramente molto molto bello per quanto riguarda la trascendenza l'immanenza può darsi che ci sia un passaggio nella seconda metà del secolo scorso anche grazie alla alla fase espansiva della società c'è stato una grossa rivoluzione nei comportamenti nei costumi tutti noi la conosciamo molti di noi l'hanno vissuta anche in maniera abbastanza protagonistica questo si è avvicinato e ha coniugato anche la evaporazione del trascendente che è calato nell'immanente attraverso i meccanismi tutto il mondo della new age il trascendente si è calato nell'immanente e i cieli sono rimasti vuoti ovviamente adesso io non ho le competenze per dire se è successo così ma quando nella fase in una fase recessiva della nostra società è una fase tra l'altro toccata dalla da un'epidemia quindi da qualche cosa di notturno che ci colpisce in maniera ingiusta e incontrollabile e cominciamo a ripopolare i cieli ecco questa mentre lo dico mi rendo conto che è banale però magari è quello che mi è venuto in mente tutto sommato un meccanismo e quando prima dicevo che c'è una sotterranea forma di superstizione a volte viene meno ma quando come posso dire gli dei martellano la terra con il Thor martella la terra allora noi ci guardiamo in alto e se i cieli sono non ci sono persone in cielo i famosi santi in cielo non ci sono tremiamo ma è banale mi rendo conto però può darsi che possa essere un tema di riflessione proprio sul discorso della modernità come Ibris per esempio da ultimo il discorso del corpo discorso ottimo eccellente io mi sono occupato in passato anche in sociologia della salute e la convergenza salute e salvezza è più che è banale dirlo è assolutamente banale basta pensare che per diventare santi ci vuole un miracolo fatto sulla carne non è che uno diventa santo perché fa l'eremita ed è in odore e magari vola anche come facevano certi monaci francescani deve fare dei miracoli e il miracolo è guarire è la carne non ci sono santi quindi alla fine della fiera questa religione questa spiritualità è terribilmente carnale perché ci deve ritornare e sulla ciccia se no non ci convince assolutamente non ci convince e infatti ex voto sulla salvezza dell'anima pochi 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 quindi viene fuori un discorso molto materiale molto materico molto incarnato e l'ex voto non è proprio la rappresentazione perfetta perché incarna questo tipo di bolla di immaginare assolutamente ultimissima notazione così divertente c'è sempre il cognome prima del nome anche in quelli recentissimi molto molto carino perché è una sorta di annullare la propria individualità rimettersi all'esercito in cui si è chiamati per nome per cognome proprio per venir meno dalla ibris dell'essere dell'esistere come individuo e rimettersi per l'appunto al volere degli dei che si spera non siano benevoli detto questo io chiuderei se qualcuno vuol fare qualche altro intervento volante per carità non voglio essere io chiudere la bocca a qualcuno che ha avuto qualche ispirazione visto che stiamo parlando di immaginario religione il concetto di ispirazione mi sembra adatto per pensare a un intervento vai Emanuele il microfono ecco volevo soltanto approfittare ancora un po' dell'attenzione perché mentre parlavo ho dimenticato c'è un passaggio che io sottolineerei perché è importante comunque può tenere insieme tante cose che sono state dette anche immanenza trascendenza lo sconfinare della trascendenza dell'immanenza c'è un passaggio nella introduzione di Renato Grimaldi che è molto importante e riguarda la qualificazione del magico come eccedenza umana in tutto questo non la prevalenza c'è un in più l'agire magico è in più rispetto a tutta questa struttura e quindi anche nell'oggetto che raccoglie tutto questo questo universo è un momento in più e non può diciamo prendere la prevalenza su tutto questo discorso adesso ci tenevo a dirlo perché può essere molto importante anche perché tanti travisamenti tanti spostamenti agiscono molto su questo concetto del magico anche certe utilizzazioni del patrimonio letterario antropologico a cominciare da Marcel Mose e il Don e tutto quanto forzano un po' troppo la mano su questo su questo aspetto e magari vengono sempre presi a supporto di questi spostamenti verso il magico verso queste ritorno del magico ma qui in questo in questa ricerca per cinque secoli si vede che è uno spicchio questo magico a cui si lascia ecco proprio una piccola una piccola possibilità di esprimersi detto questo è anche importante un altro passaggio in cui Renato Grimaldi mette meno a fuoco il comportamento delle curie degli alti livelli delle gerarchie religiose rispetto a tutto questo patrimonio di oggetti e di ritualità il solito rapporto della chiesa con la religiosità poporale anche questo è importante perché va nella direzione di stigmatizzare un certo tipo di comportamento piuttosto che leggerlo completamente con questo spicchio di eccedenza umana che è il magico ecco mi permetto di voler aggiungere questo perché mi dispiaceva sono due passaggi che sono molto interessanti per gli addetti ai lavori ecco grazie ancora grazie grazie in chiusura se non so a parte che chiunque voglia può intervenire se Renato vuol dire due parole in chiusurissimo non voglio mi imbarazza esserlo a chiudere se vuol dire due parole Renato in chiusura no io a questo punto voglio solo ringraziare te Fabio D'Andrea ovviamente per avermi invitato chi è venuto a discutere chi ha letto il libro anche chi soprattutto chi ha partecipato perché credo che sia importante nella nostra comunità poter ci dedicare un po' di tempo senza fretta e poter discutere ogni tanto di quello che vorremmo per cui siamo qui no in realtà poi lo dicevamo prima di iniziare con Fabio e con Domenico siamo il lavoro da ricercatore è diventato proprio quasi un lusso e quindi il fatto di poterci parlare poterci confrontare è un dono che ci facciamo e di cui vi sono molto grato vi sono molto grato di avermi invitato di aver discusso questo libro a cui lo capite tengo molto e quindi niente vi ringrazio e ridò la parola a Domenico per salutarci ecco nel saluto ricordo a tutti e a tutte che in immaginario abbiamo creato uno spazio di discussione libera chiamato il tè di Alice ovviamente essendo dell'immaginario e alle 17 del 17 di ogni mese c'è uno spazio aperto quindi se qualcuno vuole poi venire a riparlarne in qualsiasi modo senza tema il tema nasce dalle persone che arrivano quindi vi invito a usare questo spazio libero proprio perché a volte anche l'organizzazione comprime un pochettino quello che può essere la libertà di discussione quello è uno spazio libero come fosse un tè a casa di qualcuno in cui poi si chiacchiera amabilmente come abbiamo fatto stavolta grazie a tutti quanti se Fabio non vorrei usurpare Fabio che è il padrone di casa quindi se vuoi più voglio dire al di là dell'aver come dire al di là dell'aver messo a disposizione l'aula io auspico che le cose vadano così nel senso che siamo come diceva giustamente Renato siamo tutti affamati di spazi nei quali poter stare un attimo in tranquillità a fare due chiacchiere senza dover poi giustificare il tutto creare verbali riportare punteggi eccetera eccetera quindi sono molto contento che questa cosa stia prendendo piede perché era una delle cose che mi ero ripromesso di fare nel momento in cui sono entrato nel direttivo ICE e vedo con piacere che non stavo interpretando semplicemente una mia peculiarità ma che era un bisogno condiviso che stiamo poi appunto mettendo a frutto perciò vi ringrazio moltissimo di tutto spero che avremo occasione di rifarlo quanto prima non abbiamo scadenze perché appunto essendo qualcosa che non tendenzialmente non si pianifica aspettiamo che vengano gli stimoli ma questo senz'altro è stato uno dei più interessanti che abbiamo ospitato finora per cui ringrazio di nuovo Renato per il suo lavoro e per la disponibilità e per come dire il tono con cui tutto questo ci è stato presentato e mi auguro di rivedervi alla prossima occasione per cui grazie mille grazie grazie a tutti grazie grazie davvero grazie mille arrivederci grazie a tutti